0,93 e 60, meno 1,68% allora ci colleghiamo subito con il prossimo ospite ho il grandissimo piacere di collegarmi con la Svizzera Nord Orientale Enrico Lanati, investire.biz, buon pomeriggio e ben ritrovato buon pomeriggio a voi allora flessione a ripassa importante quella della giornata di oggi come vedi i mercati Enrico? ma questa era una flessione che molti si attendevano era da un po' che tutti i mercati azionari erano su delle fasi molto importanti di rialzo e quindi una presa di beneficio ci può stare tranquillamente ora il punto è capire se abbiamo svoltato verso un ribasso molto più importante o se invece queste sono ottime occasioni di acquisto personalmente io ti posso dire che come idea piuttosto che mettermi short adesso su gli indici azionari quindi per cercare di prendere un ulteriore ribasso dopo un movimento così forte penso che sia più interessante magari fare un long sull'oro visto che i tuoi telespettatori ne parlavano precedentemente mi sembra che l'hai chiesto a Paolo ecco, secondo me se si vuole investire a ribasso piuttosto che farlo sugli indici magari può avere senso investire su una commodities contrarian come l'oro perché è in una fase di stagionalità molto favorevole nel mese di febbraio febbraio è il mese più positivo per l'oro diciamo all'interno di tutta l'ora Enrico mi dicono di farti gli auguri in diretta è arrivato qualche messaggio dei telespettatori perché dicono che sei diventato papà ve lo confermi? sì, cavolo, volano le notizie girano, circolano sì sì, assolutamente così è vero, è vero quindi facciamo gli auguri in diretta qua tutta la struttura, le fonti tv ti fa gli auguri da papà allora, ritorniamo però sui mercati eccolo qua, ti volevo fare una domanda andiamo a commentare i dati relativi alla giornata di oggi sulle buste paga del settore non agricole in America e poi anche il tasso di disoccupazione un po' la tua idea a riguardo positive oggi? sì, quello sicuramente infatti poi il dollaro si è ricominciato ad apprezzarsi in realtà io penso che questo sia un qualcosa di contingente l'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo detto che il range era proprio quello intorno al livello di 1,25 al massimo diciamo il cambio euro contro dollaro e di fatto poi da lì c'è stato uno storno io come ti dissi l'altra volta ho iniziato ad acquistare qualche obbligazione in dollari americani ed è quella diciamo la mia strategia nel breve termine io penso che l'idea è questa secondo me con tassi che sono destinati ad alzarsi il dollaro dovrebbe apprezzarsi ovviamente l'unico rischio è legato alle politiche della BCE se dovessero iniziare ad essere un pochettino più restrittive cosa che non penso possa avvenire nel breve quindi diciamo che per me è giusto essere short euro-dollaro in realtà io sto facendo un altro tipo di trading quindi non sto facendo uno short euro-dollaro ma sto facendo, ne abbiamo parlato diverso tempo fa dollaro-franco dollaro-franco tra l'altro è sceso tantissimo ed è arrivato in area adesso se vuoi lo prendo al volo si battiamo 0,9323 oggi in territorio positivo accompagnato dai dati positivi più 0,68% però attenzione Enrico perché abbiamo rotto quel supporto in area 0,9440 non abbiamo recuperato il livello ma abbiamo accelerato ancora di basso esatto, io infatti ho comprato ancora sia nella giornata di ieri che nella giornata dell'altro ieri quindi sono long molto convinto su questo strumento ecco andiamo con calma Enrico Lanati investire.biz si espone al rialzo del dollaro americano contro il franco svizzero e vive in Svizzera eh no ma ti faccio c'è un tema su questa cosa allora ne parlavo tra l'altro oggi con un amico che si occupa proprio di cambi qui in una primaria banca svizzera e lui diceva guarda che la situazione è interessante perché se tu guardi euro-dollaro ci troviamo in area 1,25 in realtà 1,24 qualcosa in questo momento 1,2440 euro-franco ci troviamo aspetta che lo prendo intorno a 1,16 ci sono 10 figure di distanza quindi diciamo tra 1,15 e 1,25 più o meno in realtà è qualcosa meno e quindi lui mi diceva guarda che questo differenziale è un differenziale molto importante che ha portato dollaro franco ad essere eh quotato ben sotto la parità quindi eh intorno ad area 0,93 in questo momento il poi l'altro punto è legato proprio al allo swap positivo quindi se si prende posizione su questo ehm su dollaro franco al rialzo si incassano degli interessi questa è la prima cosa positiva la seconda questo differenziale così largo tra euro-dollaro e euro-franco è eh un qualcosa che non capita spesso e quindi è una sorta di io non la chiamerei inefficienza di mercato ma comunque un'opportunità quindi a me piace molto e io quindi ho rinforzato insomma le posizioni e fai ho un prezzo meglio di carico intorno a 0,94 più o meno ok dove la stoppi la posizione Enrico? ti dico la verità ho soldi abbastanza su una questa posizione per per mantenerla senza senza grossa a mantenere a vita? no guarda ma ti dico sai questo in particolare questo strumento è ciclico cioè diciamo è ciclico mi paga degli interessi a essere long non ho il problema sai è sempre legato alle leve che si utilizzano se tu non hai utilizzato una leva una leva particolarmente importante di fatto è un investimento che ti dà un tot di rendimento quindi bisogna svincolarsi da quell'idea diciamo del forex del tutto e subito i 50, i 100 pip, i 200 pip secondo me qui l'idea è un investimento che ci dice che oggi il dollaro è prezzato peggio rispetto al franco svizzero il dollaro è destinato ad apprezzarsi il franco non penso più di tanto e di conseguenza con un differenziale di tassi positivi inizia a incassare il differenziale dei tassi e poi secondo me nel lungo termine noi lo rivedremo intorno a 1 perché quello diciamo è il suo target naturale quindi lo tengo con sides modesta senza esagerare a livello di sides ma se anche dovesse andare a 0,90 non mi strappo i capelli ok target 1 mi ha fatto un assist perché ha parlato di leve cosa ne pensi riguardo la proposta dell'ESMA sei d'accordo o contrarian? allora il tema è più complesso di quello che che possa sembrare allora c'è allora su questa proposta io ritengo che io non sono mai stato un grande utilizzatore della leva ti dico la verità ti racconto un aneddoto quando ho iniziato a lavorare presso un primario broker ero perplesso dicevo ma come la leva ma io ho sempre fatto i titoli senza la leva che necessità c'è di utilizzare la leva in realtà poi mi sono reso conto che la leva è un valido strumento per l'operatività e può essere estremamente utile soprattutto se si vuole lavorare su degli spread quindi la leva è un qualcosa di importante c'è da dire che delle leve molto molto importanti soprattutto su conti poco capitalizzati sono un rischio significativo per l'investitore quindi da un lato l'autorità di vigilanza fa bene a diciamo limitare o voler limitare le esposizioni da parte degli utenti dall'altro però quello che secondo me è un rischio per gli intermediari europei è che i clienti poi si rivolgano a intermediari fuori dall'Europa magari in giurisdizioni offshore che non hanno questo tipo di limitazioni e quindi cosa si viene a creare si verrebbe a creare una sorta di mercato inefficiente e con ancora minor tutela degli investitori che andranno a investire appunto magari con controparti offshore quindi il tema è complesso il problema è che si parte per fare del bene si finisce per fare più male del male attuale tra virgolette ecco quindi sì poi ti dico se andiamo su normative non FCA o CONSOB per noi europei potrebbe essere un problema mantenere conti importanti o no? esatto secondo me però ti dico la verità questo è un problema che ha il cliente retail molto piccolo perché io ti dico personalmente non abuso della leva quindi secondo me una leva 1 a 50 è già sufficiente dovesse essere anche un po' di meno vabbè probabilmente caleranno gli eseguiti le cose però di fatto viene richiesto un margine maggiore per fare le operazioni però diciamo che in qualche modo il regolatore deve tutelare deve tutelare le persone la cosa che ho letto in realtà che vedevo che devono essere stoppate le posizioni oltre al raggiungimento diciamo di un livello di stop pari alla metà del margine se non ho capito male adesso poi non l'ho letta nello specifico quella invece mi sembra una follia perché diciamo secondo me se il conto è capitalizzato sarebbe bene che la posizione insomma rimanesse aperta insomma tra l'altro ecco qua il sito ufficiale ha creato un sito anche IG il broker insomma internazionale si chiama repeat to esma punto trading slash it trovate proprio il sito in italiano sono state date 11.291 opinioni il tempo rimasto è di 3 giorni 5 ore 41 minuti e 22 secondi 21 20 19 18 eccetera eccetera potete mettere nome cognome email alla vostra idea e la proposta qual è eccola qua la parte principale che interessa noi trader è la seguente allora leva 31 a 30 sui cross measure quindi sicuramente sui cambi valutari che non sono cross ma sono dei cambi valutari con un margine del 3,33% leva 1 a 20 sui principali indici quindi con un margine richiesto del 5% leva 1 a 10 sulle materie prime a differenza però dell'oro con un margine del 10% su un'operazione attenzione e poi leva 1 a 5 sulle azioni con un margine richiesto del 20% qua c'è scritto anche in che modo impatta sui noi trader ecco che c'è un esempio vi faccio l'esempio proprio sul DAX mentre prima un lotto standard necessitava di un margine di 1.650 euro presenti sul conto se passano queste proposte a partire da marzo aprile necessitiamo di 16.500 euro sul conto quindi per 10 quindi attenzione insomma le differenze sono abbastanza importanti se siete a favore o a sfavore potete farlo dicendo la vostra proprio all'interno del sito eccolo qua mostrato reply2esma.trading slash ct e trovate insomma modo di dire nome e cognome e mail e l'opinione allora ritorniamo però sui mercati Enrico perché sono arrivate parecchie domande da parte dei telespettatori vediamo di farle un po' tutte eccolo qua buongiorno sono a rialzo sul titolo EMAC Empoli Milano Ancona K da 1.5940 come la vede l'ospite grazie e complimenti come sempre per la professionalità grazie mille a voi allora andiamo a vedere il titolo EMAC che io non conosco Enrico non conosco l'ho preso ho preso il sito nel frattempo allora sono grandi novità in casa EMAC a Warpower Your Passion praticamente si occupano di diciamo io da da quello che vedo sono a fianco della Reggiana Marchi Motoseghe e cos'è che fanno allora nello specifico comunque curano il verde penso che faccia è un'azienda che non conosco di Reggio Emilia e fanno lavori boschivi e forestali cura del prato e quant'altro è un tipo di business che ammetto di non conoscere detto questo l'azienda ha una capitalizzazione di 250 milioni quindi comunque è un qualcosa di diciamo è un'azienda di medie medio piccole dimensioni vediamo se ci sono dei dati interessanti fa 400 milioni di ricavi che non è male è un'utile per azione di 2,47 euro cioè è impossibile questo è sbagliato poi ci siamo negativi però oltre i due punti percentuali ne arrivano 51,80 insieme però in laterale nelle ultime due settimane di contrattazione vicino a dei supporti intorno all'uno vediamoli qui sul grafico intorno all'uno e 36,50 è un livello di supporto non indifferente degli ultimi sì due mesi di contrattazione Enrico sì 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 sicuramente però sì guarda sto anche io guardando il grafico a un anno a due anni il livello che ha toccato è un livello abbastanza abbastanza basso c'è stato uno storno c'è stata una fase molto importante all'inizio del 2017 dove appunto c'è stato questo movimento verso l'alto probabilmente sospinto da buoni risultati bisognerebbe guardarci un po' dentro aziende così piccole di solito si muovono esclusivamente sulla base dei dati che vengono rilasciati quindi sarà importante andare a studiare quando uscirà la trimestrale la semestrale o il bilancio proprio per capire insomma se ci saranno stati effettivamente dei risultati particolarmente positivi io comunque insomma vedo un trend tendenzialmente a ribasso nell'ultimo periodo se dovesse rompere diciamo l'area di 1,40 potrebbe accelerare ancora verso il basso ma questo dipenderà esclusivamente dai dati che usciranno di bilancio tra l'altro il telespettatore è long da 1,59 e 40 quindi sopra i massimi della candela positiva della giornata di ieri mi chiedo però io perché entrare long a quei livelli se la conferma non è arrivata nel senso che le ultime 48 ore sarebbe stato interessante vedere un break dei massimi della giornata di ieri che magari accompagnavano ancora un movimento positivo per il titolo oggi non è così quindi attenzione un po' ai minimi attuali perché se non vengono tenuti nelle prossime ore giornate di contrattazione potremmo ancora vedere dei ribassi importanti nel frattempo arriva anche un messaggio da parte di Paolo Serafini che ti segue dice auguri al nuovo papà Enrico Lanati digli di girarci le obbligazioni in dollari grazie mille ciao a tutti da Paolo Serafini ecco che ci segue ah guarda se vuoi te lo dico ma non è niente di esaltante non ho preso roba ad alto rendimento ho comprato un bond di Goldman Sachs sotto la Paris aspetta che lo recupero te lo dico quindi allora aspetta ci metto un secondo allora nel frattempo poi arriva anche un'affermazione da parte di Michele che dice buonasera a tutti soprattutto a Giuseppe e a Enrico Lanati il problema della chiusura della posizione al 50% di margine è molto gravosa per chi lavora in spread ad esempio sul DAX e Stocks cosa ne pensi di Lanati un caro saluto Michele infatti è su quello che io ritengo che sia una cosa assolutamente sbagliata ma su quello io penso che si arriverà a una non penso che quello passerà come cosa perché oggettivamente secondo me è vero che è giusto tutelare i piccoli investitori però dall'altro lato secondo me bisogna anche lasciare la possibilità alle persone di operare in maniera efficiente c'è da dire che c'è il discorso quello dell'utente professional quindi che si può richiedere lo status di professional ho visto almeno su quello che mostra IG quindi all'interno della piattaforma c'è la possibilità ce l'abbiamo qua il foglio che bisogna avere un tot di requisiti e sulla base di questi requisiti ci si può diciamo classificare come professional e in questo caso diciamo si evitano tutte queste limitazioni allora il bond è un bond con un rendimento del 3% quindi niente di esaltante il codice ISIN te lo dico visto che ce l'hanno richiesta XS 10 13 00 60 90 in questo momento quota sotto la pari e niente l'idea però ti dico non era di guadagnare su questo bond l'idea era quella di comprare dollari e avere un minimo di rendimento quindi c'è un piuttosto che Enrico Lanati siamo andati a target intraday sul DAX le fonti a segno cronista a segno avevamo valutato proprio sul time frame a 30 minuti del DAX attenzione perché la rottura dei massimi dell'M30 di una shooting realizzata alle ore 11 in un trend a ribasso sulla fascia laterale poteva accompagnare ancora una volta dei ribassi per stoppare la pin bar stopp arrivato negli ultimi minuti di contrattazione dove il DAX aggiorna i minimi intraday Enrico Lanati sì e lo dicevamo prima nel senso quando un coltello cade di solito si utilizza questa immagine è difficile afferrarlo quindi nel momento in cui abbiamo dei movimenti così forti comunque il DAX si trovava intorno a 13.500 punti qualche giorno fa insomma quindi c'è stato un movimento molto importante ecco comprare in queste fasi è un rischio molto forte quindi bisogna attendere dei segnali di inversione in questo momento non ce ne sono perché come hai giustamente fatto vedere tu abbiamo rotto il livello dei 12.800 e quindi in questa fase è bene essere attendisti poi ricordiamoci che sono le 17.27 del venerdì quindi è anche corretto secondo me a questo punto spegnere il computer il punto qual è chi compra adesso lo può fare ma lo fa a suo rischio e pericolo prima del weekend dove può succedere di tutto quindi diciamo che è più un azzardo non è un'operazione di trading diciamo dettata dal buonsenso dettata dall'adrenalina ti racconto una cosa che secondo me questo può interessare agli investitori vai Enrico vai allora come sai ho lavorato presso un broker e cos'è che notavo quando c'era forte volatilità o comunque in generale situazioni come queste quindi con il DAX particolarmente negativo o gli indici particolarmente negativi aumentava la size dei clienti e aumentava il numero di operazioni che è una cosa che diciamo a livello concettuale sbagliata perché si aumenta diciamo il range nel quale si muove lo strumento quindi la volatilità aumenta sarebbe corretto o tradare di meno o quantomeno ridurre l'esposizione a mercato invece purtroppo avviene un qualcosa di irrazionale che tutte le persone sperano di fare il colpo della vita della settimana del mese quindi in quelle fasi aumentano l'esposizione questi sono i casi dove vediamo delle sorte di martingale quindi persone che vanno a esporsi aumentando mediando e incrementando le posizioni questo è un qualcosa di sbagliato anche a livello didattico che però appunto abbiamo notato che almeno io quando lavoravo nel broker era una cosa che era abbastanza comune tra l'altro il non accettare le perdite è uno dei più grandi problemi di coloro che non riescono a fare dei soldi all'interno dei mercati finanziari Enrico quindi è un tema molto importante sì poi ti dico c'è perdita e perdita nel senso che ti faccio un esempio ci sono dei titoli virtuosi che magari in alcune fasi di mercato sono magari non stanno performando piuttosto bene ti faccio un esempio Roche Roche Holding è un titolo di una casa farmaceutica che nell'ultimo periodo ha performato piuttosto male io penso che sia un'azienda di qualità e quindi io me la sono comprata perché? perché nonostante sia sceso ha un dividendo interessante è un'azienda che ha una storia tutta una serie di cose e quindi se devo mettermi in portafoglio qualcosa di interessante magari vado a selezionare proprio in quella siamo siamo così in chiusura Enrico siamo così in chiusura arriva anche un aggiornamento per quanto riguarda la Fed ha parlato Kashkari la crescita dei salari può incidere sul percorso relativo ai tassi di interesse ti faccio un'ultima domanda e poi andiamo in chiusura di programma perché venerdì la regia mi chiude tassativo alle 17.30 ecco se la ridano dalla regia allora salve se riusciamo a sapere in tempo tra le tante domande cosa ne pensa il buon Enrico Lanati del titolo Commerce Bank è un buon livello di ingresso quello attuale buon lavoro vi seguo sempre con interesse grazie a te Sabrina allora andiamo a vedere il titolo al momento è in territorio negativo meno 1,20% batte 13,13 la mia quotazione attuale come lo trovi Enrico? allora aspetta che lo sto prendendo quindi Commerce Bank AG eccolo qua così almeno lo vediamo beh il titolo allora ecco qua non sono così veloce come Paolo io a muovere i grafici i grafici allora aspetta un attimo che lo prendo per bene comunque il titolo ha avuto una fase molto molto importante di rialzo adesso ho stato stornando però sembra comunque impostato a rialzo fammi prendere qualche dato fondamentale giusto per perché secondo me se dobbiamo fare un'analisi beh sicuramente siamo all'interno del settore bancario e questo potrebbe avere io ritengo che sia un settore ad alto rischio nel nel mentre allora sembra risulta dai dati che ho io sotto mano leggermente sopravvalutato tra l'altro ha un pie diciamo quello previsto atteso per l'anno prossimo intorno a 21 che è alto per il settore bancario diciamo la media di settore è intorno al 13 quindi secondo me è un titolo sopravvalutato in questa fase perché è salito tanto perché le anni scorsi era peggio quindi diciamo che la banca sta migliorando allora faccio un sunto di tre minuti per spiegarlo bene dai dati macro la banca e il prezzo dell'azione nell'ultimo anno e mezzo è salito perché perché i dati sono migliorati detto questo il tema è che i dati sono migliori rispetto rispetto a prima ma comunque diciamo il titolo è prezzato peggio rispetto alla media di settore quindi è sopravvalutato almeno per quello che vedo io dando proprio un'occhiata così veloce quindi nel comparto bancario secondo me ci sono opportunità più interessanti rispetto a Commerce Bank in questo momento vi faccio un esempio se vogliamo stare in Europa ben per Paribas se vogliamo stare in Italia io penso che Mediobanca sia un'ottima azienda detto questo insomma in questo momento secondo me è leggermente caro un'ultima domanda Enrico bravissimi ci scrivono via messaggio secondo voi lunedì il DAX apre in Gepup oppure sarà sempre debole grazie chi lo sa vedremo Enrico secondo me non apre forte quindi potrebbe aprire ancora male cioè nel senso potrebbe io mi aspetto una fase interlocutoria una giornata di lunedì però in un range di un centinaio di punti più all'incirca punto più punto meno dopo l'apertura più in basso rispetto ai prezzi attuali cioè non comprerei adesso Enrico eventi in programma dal sito investire.biz cosa abbiamo di interessante? beh ma siamo carichissimi abbiamo abbiamo dovuto spostare la location dell'evento sul fint che è Robo Advisory perché non la location che avevamo preso era troppo piccola abbattiamo i muri Enrico abbattiamo i muri è vero e quindi saremo all'hotel Hilton domani alle nove e mezza a Milano sarà un evento bellissimo su tutta quella che è la parte di trading automatico le automazioni e tutto e il resto devo dire che il sistema sta performando molto bene quindi siamo contenti vi aspettiamo abbiamo ancora pochi posti disponibili saremo veramente tantissimi attendiamo circa 200 persone quindi insomma un evento dal vivo importante grazie mille Enrico grazie mille Enrico Lanati investire.biz buon fine settimana da quel della Svizzera alla prossima grazie a voi buona settimana signori termina qua il pomeriggio di le foto